La sensibilizzazione a tematiche quali il benessere ambientale, l'acustica, le risorse idriche, materiali ecosostenibili e la riduzione dei rifiuti che va pensata a monte di ogni processo. Principi che sono alla base gli interventi edili in grado di garantire costruzioni e riqualificazioni capaci di limitare l'impatto ambientale e all'insegna dell'efficienza energetica. Tutti i temi che il professor Norbert Lanschner, fondatore di Casa Clima, oggi presidente della fondazione Climabita, ha affrontato nel corso del convegno la necessità della sostenibilità presso progetto Casa SRL a Fossato di Vico. La Casa del Futuro deve essere una casa che garantisce il massimo di comfort, di salubrità, però con un minimo di uso di energie classiche, cioè di gasolio o anche di gas metano. Cioè la Casa del Futuro dovrà essere una casa che mi deve produrre quelle energie che non serve solo per la casa ma anche per la propria mobilità. Per cui per esempio la Germania ha deciso adesso un programma che entro 2050 il settore dell'edilizia sia un produttore di energie primarie, proprio perché dobbiamo ridurre drasticamente la nostra dipendenza di energia fossile, che è un problema economico e soprattutto un grande problema ecologico e ambientale. Oggi le guerre su questo pianeta sono legate alle energie perché tutti dipendiamo da queste energie che cominciano a scarseggiare per cui chiaramente tutti cercano di avere accesso a queste fonti. Contributo offerto a tutti i tecnici, progettisti e costruttori che hanno preso parte all'incontro, accreditato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Perugia. Obiettivo dell'azienda che ha ospitato l'evento è stato quello di focalizzare l'attenzione sulle recenti evoluzioni tecniche per sensibilizzare una maggiore percezione dell'innovazione. Siamo indietro rispetto a tutti i maggiori partner europei e speriamo che con queste iniziative si riesca a sensibilizzare quella che ormai è diventata, come dice il titolo, una necessità. Non è più un'opzione, bisogna che tutti quanti gli stakeholder, tutti quanti sia i costruttori, i committenti, ma anche tutti quelli che affrontano i passaggi intermedi, quindi anche i rivenditori di materiali edili, come anche i tecnici, vadano ad intercettare questa necessità e lavorino cooperando perché questa venga percepita sempre di più in modo da portare dei benefici alle persone che poi vanno ad utilizzare gli ambienti, sia in termini di salute ma anche...